ciao a tutti sono qui senza sascia che questa sera è sul divano semplicemente per darvi appuntamento a domani alle ore 16 sul nostro canale casa del sole tv con un uomo libero o meglio con un poeta libro dei nostri tempi che si chiama enrico montesano che ci parlerà delle certezze granitiche di un tempo che ora stanno evaporando come sta evaporando quel vecchio mondo che oramai non fa più parte delle nuove vite e anzi sta crollando mentre noi continuiamo ad andare avanti verso un nuovo mondo sicuramente migliore e più libero vi do anche appuntamento lunedì alle 16 oltre al telegiornale di domani sera vi do appuntamento anche lunedì alle 16 con un altro grande uomo libero dei nostri tempi che si chiama massimo mazzucco lunedì parleremo di mafia di giletti di mentana e quindi di censura ma parleremo anche di guerra e di nato grandi